ore 15 e 30 di oggi quattro giornate al termine a bergamo scende il napoli e a bologna va il milan sempre un punto di distanza fra il milan e il napoli giornata che sembra decisiva cruciale alle 15 e 30 dunque a bergamo fischia l'inizio il super arbitro agnolini gianni vasino per noi racconta la partita in breve l'avvio è di marca atalantina al primo mischi in aria del napoli l'atalanta però non riesce a concludere nonostante questo batti e ribatti sull'altro fronte punizione di maradona fuori di poco 27esimo nicolini per bonacina che poi manda dentro per evair anticipato al momento del tiro 34esimo sul corner respinta di giuliani con i pugni spara contratto c'è un'altra deviazione in corner e si passa al secondo tempo con alemao scatenato mette in mezzo all'area dove però non c'è nessuno dei suoi raccogliere ancora alemao poco dopo eccolo che tira arriva in ritardo carnevale sull'altro fronte stromberg tenta dal limite e manda la palla oltre la traversa cross di alemao ancora lui per francini che di testa mette in mezzo scatta con un attimo di ritardo carnevale e qui rivediamo alemao sta raccogliendo la palla viene colpito la testa da una monetina che avete visto poco fa passare questo è un accendino era un altro oggetto alemao verrà sostituito da zola eccolo il napoletano ultima azione maradona serve molto bene carnevale che non riesce a girarsi per concludere ecco in questo momento alemao è stato trasferito all'ospedale di bergamo per accertamenti abbiamo parlato negli spogliatoi sia con i bergamaschi che con i napoletani la versione di mondonico è molto pacata ci ha detto c'era il miglior arbitro del mondo non sappiamo che cosa potrà decidere per quanto riguarda invece de napoli che era vicino a alemao al momento del fattaccio ha detto ho visto quando alemao è stato ferito sul capo gli sono uscite alcune gocce di sangue questa è la situazione in questo momento un incidente che potrebbe ancora per colpa di uno sconsiderato far cambiare a tavolino il risultato di questo incontro ma non solo visto il pareggio del milan anche cambiare la classifica del campionato per quanto riguarda il resto della partita mi pare che a questo punto abbia ben poca importanza perché in realtà sul campo lo 0 0 era il risultato più giusto a te paolo valenti e adesso passiamo a quello che è successo nell'altro campo quello di bologna dove il milan scendeva in campo con qualche preoccupazione data la forza del bologna anche qui grande parata di arbitri mondiali arbitri internazionali il fischio d'inizio a lanese e roberto scardova è il nostro inviato anche qui paolo un episodio che farà discutere lungo durante la settimana lo vediamo c'è vas che entra in area siamo il 36esimo passa a marronaro e vedete un il pallone sembra proprio aver soperato la linea di porta ma l'arbitro lanese lascia proseguire vediamo rallentatore c'è il pallone tra galli e pazzagli vediamo pazzagli svanacciare la palla la palla sembra proprio che il portiere del milan la restituisca in gioco quando già avarcato la linea poi 10 15 minuti prima un altro episodio questo intervento di maldini su luppi nell'area del milan il tutto nella ripresa vedete sacchi in ferocito ma in ferocito era anche il pubblico di bologna che sotto la pioggia era venuto per vedere una bella partita sulla quale però peseranno molto questi episodi vediamo subito nelle immagini montate da fabio franceschini come si era svolta la partita sin dal primo momento il milan aveva attaccato ma senza la capacità di penetrazione che ha mostrato in altre occasioni più pericoloso in bologna con questo tiro di lieve servito da giordano su calcio d'angolo poi ecco vas che viene liberato in area tira e pazzagli esce e riesce a bloccare il tiro della bolognese replica il milan c'è questo tiro di simone con così costretto a parare in due tempi sulla corrente van basten siamo ecco vedete il milan nella ripresa a cento al ritmo nel tentativo di perforare l'attentissima difesa del bologna ma vedete villa spazzare su rai card poi al vedete intanto il primo cambio determinato da sacchi con borgonovo che entra al posto di simone c'è questo bel intervento di tacco molto elegante di van basten costretto a cercare spazio a tutti i costi ma guardato vista il milanese si è rivelato ben poco pericoloso poi ancora l'episodio lo facciamo rivedere di maldini che interviene su luppi siamo al venticinquesimo della ripresa in seconda sostituzione decisa da sacchi per accelerare il ritmo esce donadoni ed entra una terza attaccante stroppa ma è il bologna che invece ha l'occasione più pericolosa vedete va a servire al centro e marronaro che appena entrato colpisce forse di tacco e sfiora il palo ora vediamo dal basso ecco il colpo di marronaro di testa in verità e la palla sfiora il palo poi ancora va a che da al centro per l'episodio di cui abbiamo parlato all'inizio marronaro urla a rigore ma non c'è niente da fare l'arbitro lanese che abbiamo raggiunto negli spogliatoi ha rifiutato naturalmente di commentare questo episodio vedete mai freddi rappresentare con vehemenza la ira dei propri giocatori ancora dal basso l'episodio lo rivediamo galli un primo intervento fazzagli si fa sfuggire la palla e poi probabilmente ecco questa è la spiegazione che danno ai giocatori del mila che hanno dato negli spogliatoi galli avrebbe subito un intervento alle spalle da parte di marronaro e per questo avrebbe subito appunto un fallo ma l'arbitro lanese comunque non ha interrotto il gioco ha lasciato proseguire una partita che era iniziata sotto benate ospici non quelli delle polemiche due belle squadre che si sono affrontate con il modulo a zona entrambe e per una volta la zona ha dimostrato di saper far produrre bel gioco il milan è parso più infacciato il bologna ha aggredito i milanisti a centro campo su ogni palla non ha lasciato un centimetro di spazio è stato più pericoloso il bologna il milan certo a un livello di classe che forse se il terreno fosse stato meno scivoloso data la pioggia avrebbe potuto esprimere meglio in ogni caso un risultato che penalizza forse il bologna e che fa riaprire lunghe discussioni su questo campionato che fino all'ultimo minuto ci terrà col fiato sospeso a te paolo ecco noi in chiusura di trasmissione sempre a cura come sempre di gabriele tramontano per i rallentamenti delle azioni rifaremo faremo ancora vedere questi due episodi sia quello di bergamo e sia quello soprattutto di bologna naturalmente le partite sono terminate voi lo sapete da poco più di un'ora quindi noi serenamente faremo rivedere le azioni per quanto possiamo per sottoporre tutto al vostro giudizio è ovvio che non mancheranno le polemiche per questi cinque minuti di due partite terminate 0 a 0 5 minuti che potevano forse mutare l'andamento del campionato comunque sempre serenamente faremo vedere ancora queste azioni e poi ci sarà tempo in settimana di fare commenti di tutti i generi e adesso la schedina dopo questo inizio diremmo in corsa lanciato allora ascoli udinese 1 a 0 1 atalanta napoli 0 a 0 x da notare il successo prezioso dell'ascoli che vuole riagganciarsi sia pure in coda al gruppo di quelli che lottano per salvarsi poi abbiamo di atalanta napoli abbiamo già parlato bari e lazio 0 a 0 x questa è l'unica partita fra squadre tranquille niente grandi aspirazioni e niente assolutamente timori poi bologna milan 0 a 0 x verona genoa 1 a 1 x prezioso questo pareggio del genoa inter cesena 1 a 1 x ancora più prezioso questo pareggio del cesena mentre l'inter non è riuscita a vincere vediamo benissimo non è riuscita a superare questo cesena che è molto forte molto col suo agostini che ha segnato il pareggio juventus cremonese 4 a 0 1 juventus a mitraglia come sempre come spesso fa nel primo tempo questa volta però non si è fatta raggiungere o perlomeno avvicinare la ripresa poi roma fiorentina 0 a 0 x è prezioso questo pareggio per la fiorentina ma forse anche per la roma che consolida la sua posizione per la coppa uef a sandoria lecce 1 a 0 1 la sandoria che affronterà il milan venerdì in anticipo mentre il il napoli riceverà il bari in casa sabato sandoria lecce dunque 1 a 0 1 poi in serie c perché la serie b oggi riposava vedete montevarchi lucchese 0 a 0 x poi la vittoria del palermo a dischia per 2 a 1 2 for lì rimini 0 a 0 x riccione vispesa 2 a 1 1 classifica ecco a tre giornate ormai dal termine milan 45 napoli 44 inter 41 juventus e sandoria 40 roma 37 atalanta bologna 33 bari 29 lazio 28 genova 26 fiorentina cesena lecce 24 cremonese udinese verona 23 ascoli 21 abbiamo le quote totocalcio non ancora e allora continuiamo la nostra serie dei collegamenti dopo le due partite che impegnavano le squadre di testa passiamo proprio ad ascoli per questo ascoli udinese 1 a 0 tonino carino l'ascoli che parte subito abbastanza forte con cavalieri impegna il portiere darello l'udinese reagisce e ha un'ottima occasione al quindicesimo con balbo ecco l'intervento di l'orieri per l'arbitro tutto regolare poi al trentesimo il gol dell'ascoli un erogol giudicate voi se il mio giudizio esatto sescovic guardate cosa fa l'attaccante eslava in area di rigore finta colpo risolutore è l'uno a zero il gol partita e passiamo al secondo tempo al trentatresimo e orlando colpo di testa al lato due minuti dopo l'ascoli potrebbe raddoppiare calcio d'angolo pallone aroslanovic respinto sulla linea da un difensore a due minuti dal termine e galparoli che alla buona occasione il colpo di testa la parata l'ascoli quindi conquista due punti d'oro e mette veramente nei guai l'udinese diciamo che è stata la guerra tra poveri ha avuto la meglio la determinazione dei giovani dell'ascoli chiamati a sostituire in prima squadra ben cinque titolari l'udinese era venuta ad ascoli puntando chiaramente allo 0 a 0 ha cercato di addormentare la partita poi ha subito il gol e non è riuscita a rimontare adesso anche lei navica in un mare di guai a te valenti passiamo allo 0 a 0 fra bari e lazio franco stripoli quindicesimo minuto di gioco la lazio in avanti sergio avanza lancia marildo e solo in aria marildo tiro del centro avanti brasiliano e mannini riesce a respingere passiamo al ventinovesimo a fondo sulla sinistra di carbone cross e fiori manda in calcio d'angolo dalla bandierina tiro tagliatissimo di joe paolo il portiere della lazio si salva con l'aiuto della traversa joe paolo cerca di scuotere il bari vediamo il brasiliano ruba palla sul tempo a bergodi salta soldà poi è marchegiani che lo mette giù ed è ammunito dall'arbitro boggi di salerno oggi all'esordio in serie a nella ripresa colpo di testa di scarafoni che aveva sostituito monelli alla lazio un'altra buona opportunità per andare in vantaggio palla pin solo a centro aria e terra cenere riesce a fermare la conclusione del centrocampista poi sul finire della partita e scarafoni che approfitta di un'incertezza ma fiori in uscita riesce a fermare l'attaccante del bari dunque 1 0 a 0 noioso tra squadre tranquille ormai appagate il bari ha conquistato il quinto risultato utile consecutivo la lazio ha guadagnato il punto che aveva programmato alla vigilia dell'incontro assenti due inventori di gioco maiellaro da una parte di canio dall'altra e la partita ovviamente ha risentito di questi due di queste due assenze dunque dal punto di vista tattico nulla da raccontare emozioni avete visto ce ne sono state pochissime non resta altro che restituire la linea a paolo valenti e io giro subito a una la linea a una tabella che dimostra le quote adesso arrivate subito no eccole allora per un monte premi di superiore a 28 miliardi ai 13 vanno quasi 11 milioni 10 milioni 943 mila ai 12 300 mila 400 lire verona verona genoa 1 a 1 per ruccio guard ecco siamo al settimo vediamo subito il gol del verona cross dalla destra di pellegrini eccolo sulla palla gritti ed eranio al quale centravanti giallo blu ruba la sfera chi dà il centro tocca per domo e si insinua fanna che fa passare la palla fra le gambe del portiere braglia ed ecco l'esultanza di fanna che corre ad abbracciare l'allenatore bagnoli 38esimo bellazione del genova con per domo eranio a ghilera e fontolan che tira impegnando peruzzi a terra 42esimo nuovamente pericolosi giallo blu da pucceddu a pellegrini a priz e gritti tira fuori da pochi metri ripresa il genova reagisce secondo lancio di caricola testa di ruotolo e bella rovesciata di eranio senza problemi per peruzzi nono punizione di magrin pellegrini è bravo a guizzare in area ma braglia sbroglia la difficile situazione quindicesimo l'arbitro pairetto e spelle caricola per somma di ammunizioni per questo brutto fallo e al diciassettesimo vediamo un contropiede di pellegrini che entra in area è molto bravo e la palla rimbalza sulla sfera sulla traversa perdono ventunesimo lancio di gutierrez per gritti e chi è solo e si mangia il raddoppio così e due minuti dopo il genova pareggia azione di urban aghilera e palla fontolan che è bravissimo a insaccare uno a uno il genova ha sfruttato al massimo le proprie capacità ed ha strappato a verona un punto preziosissimo forse determinante per la propria classifica il verona invece ha pagato per le proprie incapacità sciupando le numerose palle gol che ha saputo creare oggi cosa che d'altra parte già successa in altre partite il verona non ha compromesso le sue speranze di salvezza ma è chiaro che a questo punto dovrà soffrire sino al novantesimo dell'ultima partita insomma la squadra di magnoli oggi contro questo scoglio ha proprio battuto una brutta capocciata linea a paolo valente e vediamo adesso c1 girone a eccolo alessandria chievo 2 a 2 cararese mantova 0 a 0 empoli carpi 0 a 0 modena spezia 0 a 0 montevarchi lucchese 0 a 0 arezzo piacenza 1 a 0 prato casale 2 a 1 venezia trento 2 a 2 vicenza d'ertona 4 a 0 passiamo adesso alla sampdoria sampdoria lecce 1 a 0 alfredo liguori si c'era questo è lo sparuto manipolo circa un centinaio neanche forse dei tifosi del lecce e subito in lecce in avanti con virdis che tocca indietro e poi pasculli un bel tiro una bella parata di pagliuca questo è il lecce e questa la sampdoria il cross di carboni il calcio d'angolo il colpo di testa molto bello di lombardo all'altro e adesso ecco catanez d'ossena lombardo che non tocca bravissimo carboni un difensore veramente bravo che però sembra se ne debba andare della sampdoria è un peccato ancora il lecce in avanti qui c'è pasculli che protesta ma l'arbitro dice che assolutamente non ne parliamo neanche ancora la sampdoria catanez colpo di testa traversa è la conclusione del primo tempo la sampdoria legittima già con queste azioni il suo risultato poi c'è un colpo di testa di marino che pagliuca sul quale pagliuca è un po' indecisimo poi blocca abbastanza con sicurezza quindi conte per pasculli e qui pagliuca fa veramente una grandissima parata serve la partita in vernizi mancini a lato la sampdoria alleggerisce così poi ancora vialli mancini lombardo ma il tiro è debole ancora lecce che all'ultimo fa tutto quello che può il colpo di testa di marino su angolo di vince e poi ancora vince una bella azione personale e la conclusione che va di poco a lato della porta difesa della sampdoria la porta del lecce è vuota c'è terranio che va a fare anche l'attaccante ma non ci inizia a fare il partita finisce sull'1-0 vince la sampdoria perde naturalmente il lecce un lecce che ha meritato per la verità un lecce che ha giocato una buona partita ma la sampdoria è stata come sempre superiore in casa non ha mai perso la sampdoria quest'anno e vuole superare questo suo record di imbattibilità una sampdoria che ricordiamolo ha giocato un po meno bene del solito perché lecce ha intessuto un'ottima ranatela ha aggredito ha raddoppiato le marcature ma non ricordiamo che nella sampdoria mancavano pellegrini cereso e in parte mancini che era abbastanza dolorante ha dovuto giocare ugualmente e poi non dimentichiamo il turno di coppa che nelle gambe dei giocatori lascia un po di stanchezza bene il lecce a questo punto ha qualche problema in classifica ma è squadra che dovrebbe farcela la linea allo studio c1 c1 girone b eccolo brindisi giarre ha vinto il giarre sul brindisi per 5 a 0 casalano salernitana vittoria esterna della salernitana 1 a 0 catania torres 1 a 1 francavilla san benedettese 2 a 0 palermo ischia 2 a 1 era anche schedina monopoli ternana 2 a 0 perugia andia 2 a 0 butiolana taranto 1 a 1 casertana siracusa 3 a 1 adesso veniamo inter cesena 1 a 1 marco lucchini dunque al sesto minuto punizione di matteoli serena di testa alto al tredicesimo questa punizione di dominis fiora la traversa al ventunesimo la rete intervista è di breme da fuori stangata di sinistra e palla in rete 1 a 0 tre minuti dopo i nerazzurri reclamano in rigore per questo fallo di nobile su bergum il fallo c'era anche se fuori aria comunque l'arbitro lascia correre al venticinquesimo Klisman, Berti e Rossi anticipa serena poi alla trentunesimo Piraccini ha esposito il tiro dal limite sfiora il palo infine alla trentacinquesimo un lancio di nobile controlla la palla Agostini che con l'involontaria complicità di Bergumi vedete batte Malgioglio parità 1 a 1 l'Inter ha mancato qualche buona occasione è vero ma soprattutto ha patito più del previsto la difesa romagnola Cesena con una certa decisione ha effettivamente imbrigliato il gioco attacco offensivo nell'azzurro poi in contropiede e con una certa dose di fortuna ha conquistato un preziosissimo pareggio è tutto lì a Paolo Valenti a questo punto molti di voi come noi avranno riconosciuto l'orribile fondo del campo di San Siro del minato a San Siro speriamo che abbia ragione gli ottimisti che sia buono in occasione dell'apertura dei mondiali Milano proprio si meriterebbe oltre a un bello stadio anche un bellissimo prato erboso e speriamo che ci sia al momento opportuno adesso passiamo a questo pareggio 0 a 0 fra Roma e Fiorentina Donatella Scarnati il pubblico del Flaminio ha applaudito a lungo Ciccio Graziani che proprio oggi ha esordito in campionato come allenatore della Fiorentina parte bene la Roma al sesto Feller Cross di Mauro si tuffa ma non aggancia al 22esimo la prima occasione per la Fiorentina con Kubik la Roma ha la possibilità di segnare al 29esimo grazie ad una staffilata di Conti para Landucci subito dopo la Fiorentina reclama un rigore per questo atterramento di Baggio l'arbitro in buona posizione lascia correre nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo le occasioni migliori le ha avute la Fiorentina al 36esimo e Nappi a dare spettacolo prima è fermato da Comi poi salta tre difensori eccolo tira e Bertolt manda in angolo al 43esimo ancora un brivido per i tifosi della Roma con Kubik che colpisce la traversa siamo al secondo tempo ecco Kubik che colpisce la traversa siamo al secondo tempo la Roma cerca il gol bella triangolazione Giannini Gerolin Tempestilli solo in aria non riesce ad approfittarne all'ottavo minuto cross di Bertold Rizzitelli di testa ma il tiro è fiasco al 19esimo il rigore Baggio atterrato da Bertold protestano i giocatori della Roma ma lo bello concede il rigore che viene parato da Tancredi in questa occasione l'arbitro espulso Giannini che aveva protestato Roma dunque in dieci Fiorentina in evidenza molto bello il tiro da fuori aria di Dunga che viene parato con bravura da Tancredi la partita dell'amicizia così come è stata soprannominata la sfida tra le formazioni di Radice e Graziani si è dunque conclusa in parità un pareggio sicuramente amaro per la Fiorentina a caccia di punti che possano allontanarla dalla zona bassa della classifica ma bisogna dire che il pareggio ci sembra un risultato giusto in quanto anche la Roma ha avuto diverse occasioni da gol a proposito del rigore una curiosità in Serie A Baggio ha segnato sedici rigori consecutivi il diciassettesimo quello di oggi lo ha sbagliato è tutto ti restituisco la linea Valenti grazie Donatella adesso totip totip eccoci qua allora prima corsa X1 seconda 1-2 terza 2-2 quarta X2 quinta X1-2 sesta corsa 1-2 adesso vediamo all'ultimo collegamento è quello poi dopo faremo rivedere gli episodi così un po' controversi rallentati allora Juventus Cremonese questo 4-0 Beppe Barletti è il secondo minuto punizione di Alessio salta bene Napoli ed è gol 1-0 al tredicesimo sfiora il raddoppio la Juventus è un'azione in velocità di Agostini in Marocchi il cross e Barros sbaglia il gol da pochi passi diciannovesimo secondo gol punizione tocca Alessio Schillaci grandestro 2-0 venticinquesimo terzo gol sempre su punizione è Di Alessio che tira con molta precisione e beffa Violini 34esimo minuto ancora su punizione pericolo stavolta per la rete Juventina il tiro è di Piccioni e centra il palo alla sinistra del giovane Bonaiuti esordiente in Serie A poi 37esimo per contrasto Schillaci Garzilli Garzilli reagisce con un calcio a freddo l'arbitro giustamente secondo tempo lancio di Galea per Casiraghi il lancio è toccato deviato da Gualco è un assist prezioso per Casiraghi collo sinistro ed il bomber Juventino mette a segno ultima annotazione di questa gara su azione di Limpar esce il giovane lancio di Chiorri esce il giovane Bonaiuti Limpar mette quasi in rete il giovane a vallone un altro giovane messo in campo da Zofa nell'ultima fase di gara salva una Juventus che tutti pensavano un tantino stanca dopo il faticoso 3 a 2 e pericoloso 3 a 2 contro il Colonia invece la Juventus è andata a nozze è stata una serie di punizioni favorevoli ci sono i giorni in cui i palloni entrano e altri no stavolta è andata molto bene la Cremonese non ha fatto più di tanto né forse può fare con l'organico che si ritrova e quindi Cremonese a battersi disperatamente per restare in Serie A e Juventus sempre al quarto posto linea a Paolo Valenti grazie a me adesso via al servizio di Tramontano con gli episodi rallentati che sottoponiamo al vostro giudizio e al nostro naturalmente gol del Bologna non concesso da notare che era molto difficile onestamente per l'arbitro che stava alle spalle dei giocatori vedere sotto questa mucchiata comunque la posizione della palla ci sembra evidente e il diciassettesimo rigore battuto da Baggio e non realizzato prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento consueto della domenica sportiva alle 22.20 sarà fra gli ospiti carnevale poi un appello che lanciamo se avete fra amici se avete delle proposte già in vista della trasmissione che sarà figlia di novantesimo minuto si chiamerà però minuto zero perché precederà le partite del pomeriggio durante il campionato del mondo andrà in onda per tutte le giornate del campionato del mondo dalle 16.15 alle 16.45 se avete le proposte fateceli avere le uniremo alle nostre e cercheremo di fare una trasmissione a voi gradita e poi un appuntamento più vicino è quello per sabato prossimo sabato prossimo anticipo del campionato domenica è pasca quindi si gioca il sabato e il nostro appuntamento per novantesimo minuto è alle 17.45 quindi ci rivediamo sabato alle 17.45 a sabato a sabato a sabato un appuntamento che prima è a sabato